Ciao a tutti i gattini, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, come promesso, giocheremo a FNAF. Bene, incominciamo. In realtà il gioco è già incominciato, però. Va bene, finiamo questo e poi giochiamo veramente. C'è Foxy. No, chi c'è? No, c'è Bonnie. Allora, per mandare via questi animatronici... No. Balunsoboio. Raga, mi sa che ci prendono, però. Mi sa che ci prendono. Cavolo, ce l'ho preso. Vabbè. Ok, ora incomincia davvero la partita. Notte 5, continui. Bene. Qui ci sono i principali. Toy Bonnie, Toy Freddy, Toy Chica. Toy Chica. Qui ci sono i Withered, Withered, Freddy, Bonnie, Chica e altri. E Foxy. E qui c'è Balunboio, anche se non lo vedete. Io ho la Radarmack e adesso sta succedendo che il puppet ci sta venendo. Mangle. Ora c'è di sicuro... Eccolo. Guardate, là c'è Foxy. Per mandarlo via bisogna accendere e spegnere la torcia e tirare su e tirare giù il monitor. Così se ne dovrebbe andare. Adesso lo ricarichiamo perché scarico. Ricordatevi che questa è solo la notte 5. Poi immaginate la notte 6 e la custom night con tutti gli animatronici a 20. No, chi c'è? Perché mi sta dando sto suono? Chi c'è? No, c'è Foxy. Ok, qua dobbiamo fare così. Lo so che voi non ci capite niente. No, sta succedendo, sta succedendo. Ok ragazzi, siamo alle 2 di mattina. Siamo alle 2. No, 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 no. Toy Bonnie, Toy Bonnie. Poi c'è anche Mangle. Ma andiamo via sto... No, no, Balloon, Balloon Boy, Balloon Boy. No. No, no. Ci hanno preso, ci hanno preso. No, no, non funziona la luce. No, no, ci ha preso, ci ha preso. No. No, 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 no. E niente. Allora, io vorrei ricominciare dalla notte 1. Perché la notte 5 è impossibile. Ok. Ok. La notte 1 è la più facile. Muttiamo sta chiamata che ci dà fastidio. Poi c'è il music box, ancora pieno per fortuna. Cioè, ancora carico, non so parlare. Sì, Balloons. Qui ci sono gli Withered, Withered Bonnie e Withered Foxy sono i più attivi, secondo me. Cioè, raga, una volta avete presentato i Withered, questo qua mi ha fatto il jumpscare, mi ha trafitto, mi ha ucciso e non l'ha mai fatto. Cioè, non è mai successo nel corso della storia che, vabbè, sto gioco l'ho ricevuto tipo, non lo so, 4 giorni fa, ma che se ne frega. Vabbè, vabbè, sono dettagli. Oh, il music box che non si scarica velocemente. Che gadù, che goduria. Ok. Io direi, però, che dopo questa partita possiamo concludere, perché, insomma, siamo a circa 2 o 3 minuti di registrazione. Cioè, non lo so, perché in questo momento il mio telefono è in aria e sto registrando dall'altro, con un aggeggio, e quindi non lo so. Io non ho fatto tagli in questo video. Io non faccio tagli nel video. Ok. Ma quanto è bello giocare così facile, che gli animatronici non si muovono nemmeno. Sono già le 2 di mattina, c'è scritto qui. 2 di mattina. Ah, sono tutti al loro posto. Beh, direi che possiamo concludere qui. No. No, non possiamo concludere qui, perché c'è lui che sta arrivando. Sono già le 3. Però il music box si scarica. Lentamente, ma si scarica. Eh, già. Come dice lui, quello della cap, non so se lo conoscete. Questo rumore è incredibile. Andiamo via. Beh, passo da telecamera a telecamera. Qui, ignoriamo il fatto che c'è un pollo senza becco. Non so se voi lo vedete nell'inquadratura. Aspetta, però dove è Toibonny? Ah, è ancora qui. Che bello, è tutto così calmo. Aspettate, sono tutte e due qui, perché Chica qua non c'è più. Qua non c'è più e io ho anche la mappa degli animatronici. Chica non so se non si vede, ma è qua tipo, perché qua ci ho segnati tutti i personaggi. Non so se li vedete. Aspettate, adesso c'è solo Chica qui. Bonnie non so dove, sinceramente. Però so una cosa. Che abbiamo vinto. Che goduria. Bene, direi che possiamo concludere qui, gattini. Ciao.